Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Minigiochi e stiamo aspettando che inizi Snake Cos'è Snake? È semplicemente un gioco del Nokia 4310 Anche il 4316 ce l'aveva? Sì, partiamo Vabbè, 3310 Ce l'aveva pure il Nokia Banana Vabbè, praticamente è esattamente lo stesso gioco Noi avremo delle pecore dietro che ci seguiranno E praticamente aumentando con il tempo Aumenteranno anche loro Quindi la coda si farà sempre più lunga Lo scopo del gioco è far sbattere gli altri sulla tua coda per farli perdere L'ultimo che rimane vince Yeah Conga, longa Vabbè, ci vediamo dopo il gioco A dopo Ragazzi Non ci dobbiamo toccarli Ma io mi fermo colpi tra di noi Io sono la pecore rosa Che tu fa? Con la visuale ti esposti Ops Che figo dall'alto, regà Dall'altro è bello Ma in prima versione è bello No, sto non solennio Mi arrivano addosso Oddio, mi ricorda conga longa Della Disney Oddio Da quello grigio Opla Guardate se vince Mordo Dove sta a ridere Vinto Hai vinto Oh, bravo Eccoci Ma perché io sono sempre la pecore rosa? Io che colore ho Non so, guarda in basso Chi mi vede la coda? Bianca Mi sono schiantato subito, subito E l'ho ammazzato uno Ma dai Non mi scordo No, sono morto io Vediamolo dall'alto Dall'alto è bellissimo Io li faccio tutto in giro Vedete i colori Aspetto che si scornano tra noi Attenta al giallo Attenta al giallo Non ti taglierà Ok No C'è che ha girato intorno? Guarda, ha visto che è rossa? Sembrano tanti maiali Attenta Ma sono rimasta ferma? Oh, l'ha fatta No, si è morta No, l'ha allaggato Regà, l'ho allaggato tantissimo Sto continuando dalla cave Dolle pezze Restate velocissime E lentissime Belza si è suicidata? No Non sta a Belza No, è morta Ha vinto Ha vinto? No No Quanto stai? Regà, io la morta Ah, non lo sapevo Pensavo fossi viva Ma questa volta abbiamo perso Abbiamo perso tutti Bella a tutti ragazzi Abbiamo finito di fare le nostre partitine Uno è volato di sotto Non so perché Belza su Ok Dai, prima che torna Allora Abbiamo finito la nostra partitina Snake Però visto che era un mixed game Non abbiamo potuto Non siamo potuti restare lì Ecco è tornato Isinger E niente Quindi questo era il minigioco E vi salutiamo da qui Sopra la lettera Del call down Del altro minigioco qua Non so che cosa sia Ciao ciao a tutti Ciao ciao Per l'interno di Milano ci vede Ciao 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 Ciao